Controlli della Guardia di Finanza nei lidi balneari di Trapani e Provincia, il dispositivo volta a tutelare l'economia legale, a contrastare il sommerso da lavoro e d'azienda. Nei confronti dei lidi balneari, i quali, oltre a proporre ai clienti l'affitto di lettine e ombrelloni, effettuano la somministrazione di alimenti e bevande, nonché organizzano intrattimenti musicali, richiamando numerosa clientela, soprattutto giovanile. Controlli rivolti alle relative licenze d'esercizio, alle autorizzazioni amministrative per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché alla regolarità delle posizioni lavorative del personale impiegato. Nel corso dei tali interventi sono stati riscontrati complessivamente 13 lavoratori totalmente in nero, oltre il 25% del personale controllato. Gli accertamenti conseguenziali hanno permesso di dirilevare tre lavoratori, una a Marzala, una a Lacamo e una a Pantelleria, oltre a prestare la propria attività lavorativa in nero, percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza. Per i percettori di reddito di cittadinanza è scattata la denuncia alla locale Procura della Repubblica, oltre alla segnalazione all'Inps. Inoltre, nei confronti delle imprese controllate, sono scaturite numerose altre sanzioni, in quanto un'impresa è risultata sprovvista del misuratore fiscale per il rilascio dei relativi scontrini. Per un'altra imprese è stata proposta la sospensione dell'attività imprenditoriale all'Ispettorato del lavoro di Trapani, in quanto ha superato la soglia di almeno il 10% di lavoratori presenti sul luogo di lavoro, senza la preventiva comunicazione e distaurazione del rapporto di lavoro, mentre altre tre imprese sono risultate sprovviste della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per la vendita di prodotti alcolici.